Ragazzi io credo che gli announcement di oggi siano tra i più pazzi che io abbia mai visto Porco demonio Parto da quello meno hype che è l'arco secondo me Ma poi ragazzi per gli altri due Puoi urlare fortissimo e non posso perché non ho la voce Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Monster Hunter Rise Oggi andremo a fare la review dei nuovi trailer Oggi iniziamo con l'arco Che ripeto è quello più basilare dei tre Per fortuna Allora non c'è in realtà tantissima roba Perché molte di quelle cose lì l'hanno in realtà già fatte vedere E essenzialmente ci sono due cose nuove Allora la prima cosa è questa roba qua Questa freccia particolare che possiamo sparare Il Butcher's Bind Molto schillata in realtà perché l'effetto di questa cosa qui dice che È un Silk Bind con mira Quindi essenzialmente devi comunque saper mirare con l'arco Contro mostri veloci Farlo in follow up non è proprio banalissimo ecco E praticamente se tu prendi poi lo stesso punto Con un'altra frecciata Farei dei danni da taglio aggiuntivi Ora la cosa che specifica il sito in più È che dice che se voi missate la freccia sparisce Quindi in realtà non è banale Poi chiaramente essendo danno da taglio bla 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 Può essere usato anche per tagliare le code Chiaramente aggiungere un'arte che aggiunge danno all'arco è sempre tanta roba In ogni caso Io perché dico che non è un big deal Perché voi potete dire Ah ma un altro tool che aggiunge danni all'arco bla 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 Il fatto ragazzi è che Aerial Aim Tranne se non l'hanno nerfato a terra È più forte Perché ti consente di fare un Aerial Dodge Incatenare diversi attacchi di fila E contemporaneamente recuperare anche stamina Quindi io credo che questo qui sia solo un altro tool Oltretutto è anche complicato da usare Rispetto ad Aerial Aim Ok È che è punitivo perché Non solo devi mirare Non solo devi riprendere con la freccia successiva Allo stesso punto Ma se missate sparisce Quindi io non lo vedo un grande problema È un buon nice to have Sicuramente ci avrà le sue applicazioni E sono abbastanza sicuro anche che Il danno all'impatto sarà enorme Ok Cioè io sono sicurissimo che tipo il danno sarà gigantesco Però c'è tanti ma sta skill Nel senso che richiede comunque abilità Richiede comunque mira E comunque ti punisce eccetera E appunto E quindi si scambia proprio con Aerial Aim Tra le altre cose La cosa più curiosa in realtà dell'arco Che fanno vedere è questa qui Ed è questo stick thrust Essenzialmente Quello che accade è che voi potete infilare questo paletto qui E Essenzialmente vi boosta il danno Per gli attacchi successivi Quando colpite il palo Ora da qui appunto non si capisce niente Quindi vi faccio vedere Al volo il sito Ok Sul sito lo spiego leggermente meglio Lo vi do Ve l'ho messo in italiano Così possiamo leggere tutti quanti meglio Praticamente questo qua è A fondo prima setta Che è l'alternativa del melee attack Praticamente questo dice Che è un paletto Che esplode in risposta a una freccia L'attacco successivo di premere il danno inizia L'inflitto Quindi pensate questi come se fosse una sorta di Il Wyrmstick Che aveva la Gunlance Su Ward Iceborne Dopo che avevate infuso con Le munizioni fionda Oppure pensatelo come Il gattini che qui in Rise Se avete i gattini bomba Ci hanno sto palo effettivamente Questo paletto che conficcano sui mostri E voi colpendo questo paletto In base al danno che fate Fate altro danno on top Chiaramente Può anche vedere prima Che essendo multi-hit Sta frecciata Entra in combo con Con l'affondo Ed è super curioso Perché in realtà Questo qui è una roba Che chiaramente Aumenta tantissimo L'animation commitment Dell'arco Perché chiaramente Deve andare mili al mostro Però potenzialmente Aumenta anche i danni Quindi in realtà Io penso che Mi piace che Per quanto abbiano chiaramente Dato delle migliorie All'arco Perché ripeto In riassunto Sono comunque delle migliorie Sono comunque delle cose in più In realtà sono tutte legate A abilità del giocatore Cioè tu devi essere bravo Per utilizzare Sta roba qua Non ti viene regalata Che è la cosa più importante Ok Quindi Hanno aggiunto due cose Che per quanto Potenzino In fin dei conti Devi saperlo usare E devi committare l'azione Quindi E questa qua È la cosa più importante in assoluto Quindi Queste qua erano le mie impressioni Ragazzi Noi ci vediamo alla prossima Bella